La nuova edizione dello storico programma di Corrado Mantoni andrà in onda in prima serata. Su R.A.I. 1 a partire dalle ore 21. Quale show è Sanremo Io? Quest'anno sembra sempre più dedicata all'intrattenimento varietà. Carlo Conti lancia la sua corrida. Torna a casa, in Rai. Non saranno 10 ma 15 concorrenti a puntata. A lanciare la corrida 2018, presto in onda su R.A.I. 1, ci ha così pensato lo stesso Carlo Conti grazie ad una intervista pubblicata dal Corriere della Sera in data 20 marzo 2018, anche se ne aveva già parlato un po' di tempo fa. Dunque? Cosa aspettarsi da ritorno in tv dell'amata e storica trasmissione di Corrado? Ecco cosa ha detto Conti al giornale. In questo caso, la novità è lasciare il programma esattamente com'è, non ha senso cambiarla. Aggiungere i giudici. Fare modifiche. Perché trasformare qualcosa che funziona. Quindi spazio al pubblico, all'orchestra, al semaforo, ai C.A.M.P.A.N.A.C.C.I. Aperte virgolette. Insomma, quello riservato alla corrida, sarà un ritorno con gli elementi tv tradizionali del format madre, tanto che lo stesso Carlo Conti non sembra affatto preoccupato per eventuali criticità nel riproporre la corrida ancora oggi sul piccolo schermo. La modernità di questa edizione della C.O.R.R.I.D.A.N.E. è sicuro il conduttore, arriverà dai dilettanti di O.G.G.I., e un po' conclude, anche dai tempi televisivi. Da Corrado si esibivano 10 concorrenti a puntata, ora saranno 15 aperte virgolette. Come partecipare alla corrida 2018, e dove trovare il modulo di iscrizione ai casting. Per il resto? Ecco cosa ha fatto sapere Conti in proposito. Abbiamo fatto provini in tutta Italia, e adesso con gli autori, stiamo scegliendo i dilettanti P.E.R.F.E.T.T.I. Aperte virgolette. Casting, quelli riservati alla trasmissione, che sono stati affidati a Magnolia, società di produzione che sul proprio sito ufficiale si rivolge così agli aspiranti nuovi dilettanti allo sbaraglio. Ami e esibirti davanti al pubblico. Credi di essere un dilettante allo sbaraglio. Qualsiasi sia il tuo talento, ti stiamo aspettando, punto esclamativo. Anche fornendo il numero di telefono per chi fosse interessato a partecipare al programma, 0236767454, dopo che la grandissima parte dei provini si è già svolta in tutta Italia, in città come Roma, Bari, Firenze, Sassari, Bologna, Milano e Napoli. .